Percorsi, giunge la sua quarta edizione e per questa occasione si allarga su tutta la provincia di Pesaro-Urbino, coinvolti i comuni di Gabicce, Pesaro, Fano e Urbino. Si parte il 5 maggio a Urbino, al Teatro Raffaello Sanzio. Avremo ospite Gabriella Grayson, la rock star della fisica, con il suo spettacolo Sei donne che hanno cambiato il mondo. Alle 21 appuntamento per partire insieme verso un festival che con i suoi percorsi, con il ricalcolo dei percorsi che dopo due anni di pandemia ci portano di nuovo sui palchi, sulle strade e negli angoli anche più lontani della nostra provincia, si arriva di nuovo a Pesaro il giorno successivo, venerdì 6 maggio, per i tre appuntamenti della seconda giornata del festival. L'ente Olivieri con lo strazio della giovane donna, in cui si parlerà di una canzone che Leopardi scrisse nei primi del Novecento, che parla di femminicidi, ieri come oggi, che cosa è cambiato sul tema della violenza sulle donne. Per poi proseguire nel pomeriggio con una conferenza sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, che si terrà presso la sala della provincia di Pesaro-Urbino, la sala Pierangeli. Successivamente per la sera il documentario al cinema Astra, Corpi in vendita, a cura di Lucia Ferrati, prodotto da Percorso Donna con la collaborazione della provincia di Pesaro-Urbino, e parleremo di corpo della donna e di prostituzione, un tema importantissimo che va a toccare poi quelli che sono anche progetti che in futuro Percorso Donna farà insieme alle scuole del nostro territorio. Il terzo giorno di festival, sabato 7 maggio, si parte con un percorso di benessere, tutto rivolto alla cittadinanza in collaborazione con le associazioni del nostro territorio, quindi appuntamento alle 8.30 alla cortile della Biblioteca San Giovanni, per poi spostarci nelle piazze della nostra città. L'appuntamento poi alle 11.30 con le pari opportunità che mancano nello sport, si parlerà di professionismo nello sport, di gender pay gap e di differenze di genere. Per poi proseguire il pomeriggio alla Chiesa della Maddalena, di nuovo per parlare del corpo della donna, dello slut shaming e della cultura dello stupro. Poi la sera ci spostiamo per, alle ore 19, inaugurare presso la Biblioteca Oliveriana la mostra dei Consequences di Stefania Prandi, che racconta lo sguardo di chi resta dopo i femminicidi, una mostra importantissima che tocca il tema per noi primario della violenza maschile sulle donne, quindi di quella che è la punta dell'iceberg, ovvero il femminicidio, che tutti vediamo e riconosciamo, ma forse non sappiamo quanto a fondo tocca bambini, padri, madri, sorelle, fratelli, chi resta dopo una donna che viene ammazzata per mano dell'uomo che diceva di amarla. Chiudiamo il nostro festival domenica 8 maggio, si parte a Fano con la scrittrice e autrice Serena Ballista insieme alla editrice Monica Martinelli di 7.9 per parlare di Simone de Beauvoir e del crescere attiviste per cambiare il corso della corrente, quindi di nuovo i temi del femminismo, i temi del cambiamento e della rivoluzione culturale che ci contraddistingue. Poi nel pomeriggio con le mamme di merda andiamo a decostruire gli stereotipi di genere sul tema della maternità. Si concluderà il nostro festival con una festa, con sei giunta a destinazione dopo il ricalcolo dei percorsi presso il Gra, con il concerto dei Diavoli e l'Acqua Santa e quindi vi aspettiamo per chiudere in bellezza questa quarta edizione del festival. La differenza sul tema della violenza di genere possiamo farla tutti e tutte, come cittadini e come cittadine, discutendo di questo tema, confrontandoci e cercando di comprenderlo, avvicinandoci alla violenza di genere, in particolare la violenza maschile sulle donne, anche attraverso lo sport, la cultura, il cinema e l'arte.